Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto. In apertura le notizie che arrivano da Treviso dove i carabinieri hanno arrestato quattro rumeni ritenuti componenti della cosiddetta banda della spaccata. I quattro ritenuti responsabili di assalti in bar, tabaccherie e vari negozi sono stati bloccati in flagranza di reato a Casale Sul Sile. In carcere sono finiti Paul Stefan Mattei di 26 anni, Dumitra Tudarella 35 anni, Yonut Cipriandarabam 25 e Leon Lani di 39 anni. I quattro sono stati notati dai carabinieri mentre tentavano di forzare la serranda di una tabaccheria, ma alla vista dei militari si sono dati alla fuga a bordo di un'auto. Ne è seguito un inseguimento che ha portato i carabinieri a spingere l'auto dei rumeni con una fiancata contro un muro, mentre il secondo lato veniva bloccato dai mezzi di servizio, di fatto imprigionando i quattro nell'auto. I rumeni davanti alla tabaccheria sono stati bloccati nell'auto e è stato trovato materiale da scasso, tra cui una mazza ferrata, un'ascia, un cavo d'acciaio da traino, cacciaviti e pinze. E lungo l'A4, in territorio di Cessalto, in provincia di Treviso, nella notte, si è svolto un roccambolesco in seguimento dopo che un furgone sospetto non si era fermato all'alte delle forze dell'ordine. Era all'1.30 quando era in corso da parte dei carabinieri un apposito servizio di cattura di latitanti. Dopo la fuga con la collaborazione della Polstrada di San Donà, il mezzo è stato inseguito. A bordo tre stranieri, l'auto della stradale è stata anche speronata dai malviventi. Poi hanno proseguito la fuga a piedi, ma i carabinieri sono riusciti a bloccarli e infine è scattato l'arresto. Gli agenti della stradale sono rimasti feriti con una prognosi di 10 giorni. Degli arrestati, due erano effettivamente ricercati. Nella fase conclusiva della cattura, i tre sono stati violenti, ci sono stati dei momenti di tensione. Due carabinieri sono rimasti feriti. Una telefonata anonima stamane ha fatto scattare le procedure di sicurezza nelle sedi del Tribunale di Venezia. Una voce sconosciuta aveva preannunciato un'esplosione. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Venezia che hanno verificato in maniera meticolosa i locali. Non è stato necessario evacuare gli stabili e le procedure di controllo hanno dato esito negativo. Molte automobili di nuova generazione per una questione di sicurezza fanno scattare le serrature dall'interno quando il motore è acceso. Sentite cosa è successo ieri ad Abano. È scesa dall'auto lasciando il motore acceso e la sua bimba sul seggiolino, ma il sistema di sicurezza ha chiuso la serratura dall'interno. Sono stati momenti di panico, quelli vissuti da una mamma che ad Abano Terme era scesa un momento dalla macchina lasciando il motore acceso per non spegnere l'aria condizionata. Un momento nel quale sono scattate le serrature e lasciando di fatto bloccata all'interno la figlia di alcuni mesi. La donna rendendosi subito conto di non riuscire ad aprire la porta ha chiesto aiuto ai passanti e alla fine è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno rotto il finestrino con molta attenzione e la donna ha riabbracciato la sua piccolina. Questa notizia dovrebbe far riflettere un po' tutti e ricordare che le auto di ultima generazione sono quasi tutte dotate di chiusura automatica e bisogna sempre porre attenzione quando si esce dall'abitacolo e si lascia o il motore acceso o si lasciano le chiavi all'interno. Da Padova ancora un centro massaggi a luci rosse scoperto e chiuso ad eseguire l'operazione gli uomini della squadra mobile dopo varie segnalazioni di cittadini insospettiti da un continuo via vai di clienti maschili. Il centro, gestito da un trentenne di nazionalità cinese che si avvaleva dell'attività lavorativa di sue connazionali, era in realtà un centro massaggi a luci rosse. I clienti usufruivano di prestazioni sessuali extra massaggio. Il titolare è stato denunciato per favoreggiamento, sfruttamento e induzione alla prostituzione. Il centro La Violetta, questo il nome, era stato aperto soltanto quattro mesi fa circa, ma da subito aveva insospettito il vicinato perché i clienti erano solo uomini. Sembra addirittura che una signora avesse chiesto di poter fare un manicure, ma sembra appunto che questa donna sia stata allontanata. Caldo e affa in questi giorni con picchi di ozono molto elevati. Sconsigliati gli sport all'aperto nelle ore centrali del giorno. Ascoltiamo. Temperature elevate, affa e qualità dell'aria non proprio eccellenti sconsigliano di praticare i jogging all'aperto. Correre sugli argini con temperature elevate come quelle in atto in questi giorni costringono il fisico a un eccessivo sforzo che per alcune persone potrebbe avere conseguenze anche gravi. Anche chi gode di buona salute in condizioni climatiche così calde chiede troppo a se stesso. Per gli appassionati di jogging, magari anche abituati a sfide con se stessi e per correre chilometri e chilometri, può sembrare un consiglio inutile e scocciante, ma il corpo può subire degli shock molto intensi. Le energie bruciate infatti portano ad un aumento delle temperature del corpo e la sudorazione che dovrebbe disperdere il calore non evapora, creando un forte disagio con possibili ripercussioni su muscoli e organi interni. Correre d'estate comunque si può, basta usare un comportamento corretto, restare idratati e scegliere le ore delle giornate meno calde, preferendo un orario serale dopo le 19. E adesso una notizia che arriva dal mondo politico veneto, da Treviso. La Lega è una cosa, Gentilini è un'altra e nessuno deve farmi girare le scatole. Parola dell'ex sindaco sceriffo di Treviso che in un'intervista alla tribuna ricorda che per le elezioni comunali del 2013 è pronto a correre da solo per tornare ad amministrare la città della marca. Alla mia età ha detto uno corre per vincere, diventare sindaco, indicando di avere già deciso di candidarsi e se in questi mesi da parte di qualcuno ripartirà la guerra interna alla Lega contro Di Medici, cioè Gentilini, correrò con una mia lista civica sganciato dal Carroccio. Una decisione questa che prenderà nei prossimi 3-4 mesi. Riguardo al Carroccio, Gentilini è ritornato a ripetere che è ora di tornare alle origini, altrimenti dice addio e devono venire davvero prima i trevigiani, poi gli immigrati. Io dico senza paura, dice ancora Gentilini, di passare per razzista, me ne frego. Per me ora la priorità è aiutare i tantissimi trevigiani in difficoltà economiche che non arrivano più a fine mese, una situazione che è drammatica. Nel Vicentino si è incendiata parte di una casa colonica, è accaduto nelle prime luci della serata di ieri. In casa c'era una signora in carrozzina e la figlia che l'assisteva e che per fortuna l'ha subito portata al sicuro all'esterno dell'edificio. Si sono fortunatamente messe in salvo anche due persone, più o meno nella stessa situazione. Un uomo anziano con delle patologie che in casa era con il badante, nello stesso edificio dunque ma in due abitazioni divise. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte fonda per aver ragione sulle fiamme. Il tetto è rimasto distrutto e ovviamente sono stati inceneriti tutti i beni delle due famiglie. A Padova oggi celebrazioni per i 300 anni dalla nascita di Nicolò Antonio Giustiniani, vescovo della città nel 1700 e fondatore dell'ospedale Giustinianeo. Questa mattina sono stati portati anche dei fiori sulla sua tomba che si trova all'interno del Duomo. Si è aperta in mattinata con un momento di preghiera la giornata padovana dedicata a Nicolò Antonio Giustiniani. Nato nel 1712 fu vescovo della città e fondatore dell'ospedale Giustinianeo. Per la ricorrenza si è svolta una cerimonia ufficiale dal pomeriggio all'interno dell'aula Morgagni dell'azienda ospedaliera, ma questa mattina in cattedrale sono stati deposti dei fiori sulla tomba di Giustiniani ed è seguito un momento di preghiera. A deporre il mazzo di fiori il direttore dell'azienda ospedaliera di Padova Adriano Cestrone e il giornalista Gianfranco Natoli, che ha scritto un libro raccontando la vita e la storia di questo personaggio che per la città è stato una figura fondamentale. Alla cerimonia era presente anche il vescovo Antonio Mattiazzo. Il dottor Cestrone, ricordando la figura di Nicolò Giustiniani, ha voluto sottolineare l'importanza dell'ospedale Giustinianeo, un'opera che ha segnato il futuro della città e costruita in maniera eccellente, tanto da risultare perfetta anche dopo secoli. La tomba di Nicolò Giustiniani era stata scelta da lui stesso all'interno del Duomo Cittadino. Un personaggio importante, vescovo di una città che ancora oggi lo ringrazia e che grazie al lavoro di Gianfranco Natoli può essere scoperto anche dalle nuove generazioni o da chi semplicemente vuole scoprire la sua storia e le sue azioni. Momento conclusivo delle cerimonie odierne alle 20.30 con l'illuminazione a LED dell'ospedale Giustinianeo e l'inaugurazione di una targa celebrativa nell'atrio della struttura. Da mestre completamente ubriaco, danneggia un negozio in via Piave, tenta di investire una prostituta rumena che adescava i clienti davanti alla chiesa e cade infine, pensate rovinosamente, col suo motociclo proprio davanti ad un'auto civetta del nucleo di polizia giudiziaria della Municipale di Venezia. Si è conclusa con due denunce a piede libero per i reati di tentate, lesioni e guida in stato di ebrezza nonché con un deferimento all'autorità giudiziaria per i danni compiuti alla vetrina la notte brava di un cittadino di 37 anni, cittadino rumeno, residente a Zelarino. Il test alcolimetrico a cui l'uomo è stato sottoposto ha dato esito 2,35, non molto distante dice la Municipale dal Precoma Etilico. Protesta dei commercianti dell'ASCOM Padovana stamane a Roma davanti a Montecitorio almeno in 50 commercianti di varie categorie guidate dal Presidente Zilio hanno protestati armati di scope, tricolori, bandiere, fischietti e casacche con la scritta basta soldi ai partiti, meno tasse a cittadini e imprese. Una protesta simbolica che sicuramente ha attirato l'attenzione anche se a livello politico si è presentato soltanto l'Onorevole Giorgetti. Attraverso un comunicato il Presidente ASCOM dice o la politica si decide a cambiare pelle o quelle che adesso sono le scope dell'ASCOM in fin dei conti simpatiche e scenografiche diventeranno la rappresentazione di un paese che vuole liberarsi di una zavorra che sta mandando il paese a fondo. Ieri a Padova protagonista la dodicesima edizione del Trofeo Città del Santo nella sede di Padova Nuoto. Guardiamo. Un caldo a foso e un sole cocente hanno fatto da cornice alla dodicesima edizione Trofeo Città del Santo. La manifestazione sportiva a carattere nazionale si è svolta nelle piscine comunali Padova Nuoto in via decorati al Valor Civile. Nella piscina olimpionica scoperta di 50 metri si sono sfidate otto società Plain Team Veneto, Padova Nuoto, Veneto Banca Montebelluna, Team Lombardia, USD Idros, Tre Piscine, Nottoli Nuoto 74 ASD e ASD Piscine di Strai Vigonza. La giuria è stata affidata al gruppo ufficiale di gara del Veneto. Il cronometraggio automatico è stato a cura della Federazione Italiana Cronometristi, sezione di Venezia e dell'ASD Padova Crono. Sono stati premiati con medaglia e materiale tecnico i primi tre classificati di ogni gara maschile e femminile e le prime tre staffette con medaglie. I premi sono stati consegnati dall'assessore allo sport del comune di Padova Umberto Zampieri, assessore provinciale allo sport Leandro Comacchio e dal presidente della Padova Nuoto nonché presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle. Grande giornata di sport oggi nella città del Santo, grande giornata di nuoto. Siamo assieme al presidente della Padova Nuoto Gianfranco Bardelle. Ma indubbiamente Padova nel nuoto si merita perché ha dei grandi atleti in questo settore ma poi non voglio dimenticare anche la palla nuoto presso il prebiscito. Quindi il nuoto qui è di casa. Sarebbe giunto il momento di dotare questa piscina olimpica di 50 metri, di quelle attrezzature da poter portare a un campionato a livello nazionale o internazionale. Io spero che con l'amministrazione si riesca a raggiungere questo obiettivo e fra due o tre anni questi campioni che abbiamo visto oggi gareggiare con campioni a livello internazionale. All'evento erano presenti anche i dirigenti della Federazione Italiana Nuoto. Il trofeo Città del Santo è stato consegnato alla società vincitrice della manifestazione andata al Team Lombardia. La seconda e terza società sul podio hanno ricevuto una coppa, una targa andata all'ottava società classificata. Nell'ambito della manifestazione si è svolto anche l'evento Memoria al Katia, dedicato a Katia Capuani, moglie del presidente Bardelle, scomparsa alcuni mesi fa. In occasione di Art Night 2012, che si svolgerà a Venezia, saranno rafforzati i collegamenti di autobus notturni con la terraferma per facilitare il deflusso del popolo della notte. La scelta è fatta sull'esperienza dello scorso anno, quando la manifestazione aveva richiamato un grandissimo numero di presenze, oltre ogni aspettativa, per evitare il ripetersi dei disagi. Dunque, la scelta e la collaborazione con ACTV metterà a disposizione il raddoppio delle linee notturne. Inoltre, la centrale operativa terrà monitorata la situazione in Piazzale Roma per intervenire con corse aggiuntive, se necessario. Ed ora, uno sguardo al tempo. L'influenza sul Veneto dell'anticiclone presente sul Mediterraneo verrà attenuata tra domani e sabato dal passaggio di una perturbazione con nucleo d'azione sull'Inghilterra. Sulla regione avremo dunque condizioni di variabilità, specie in montagna con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, e un calo delle temperature massime nella giornata di sabato. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci a domani. Ok, grazie a tutti.